Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 variante. Sullo stesso tratto segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada. Stessa situazione in Fipilino, uscita in Poliest per chi proviene da Firenze. Siamo al trasporto pubblico locale e da quest'oggi fino al 9 marzo la funicolare di Certaldo è chiusa al pubblico per lavori di collaudo e manutenzione in questo periodo nella fascia l'area compresa tra le 7.30 e le 19.30, sabato e domenica inclusi, attivo un servizio sostitutivo denominato Pollicino. Te lo ridettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per male la chiusura di via del Ponte di Mezzo, per operazione di soccorso e messa in sicurezza del quadrante di via Mariti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie. Grazie.